Benvenuti ed eccoci, monociclo Seagway 1, monociclo Seagway Mini, l'agente che ci autofotografiamo, noi selfie ce lo facciamo così, tiè, ciao per portacà. Ragazzi, devo ammettere la mia completa ignoranza come milanese, cioè grazie a questi monocicli io sono riuscito a trovare delle piazzette del castello sforzesco, proprio delle piazzette interne al castello, e io in 50 anni non sapevo neanche che ci fossero, cioè un ignorante pazzesco e ci ero venuto ma decine di volte, se l'occhi a piedi non riesci perché non riesci a girare così tanto, per invece col monociclo giri e ho trovato queste piazzette ma è già la seconda che veramente non ero riuscito a trovare prima, ma è spettacolare ragazzi, praticamente da ammettendo la propria ignoranza milanese, dal ferro alla giangi alla scoperta del castello sforzesco, ciao boys, ciao, 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 guardala, guardala come gira, guardala, guardala, non scende più cazzo.